Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale per i sordi. Scoperti dai carabinieri, gli autori di dieci rapine compiute a Prato dall'aprile di quest'anno ai danni di cittadini cinesi. In manette un nigeriano, 39enne, con l'accusa del reato di rapina continuata, nonché aggravata in alcuni casi, anche da lesioni alle vittime. Indagato in stato di libertà anche un altro nigeriano, 27enne. Entrambi sono noti alle forze dell'ordine e per diverso tempo hanno dimorato in uno stabile occupato recentemente, sgomberato due volte. Denunciati anche altri due nigeriani di 25 e 33 anni. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo con una tromba d'aria e forti temporali che si è abbattuta ieri notte nel territorio di Massa Carrara, causando, tra l'altro, la caduta di alberi su abitazioni e autovetture e tetti divelti. Una richiesta di avocazione da parte della Procura Generale di Firenze delle indagini sul mostro di Firenze è stata depositata dall'avvocato Walter Biscotti del Foro di Perugia, che rappresenta alcuni familiari delle vittime. Alla luce di quanto accaduto, a seguito di alcune decisioni della Procura di Firenze, che di fatto impedisce ai difensori delle persone offese di svolgere indagini difensive relative agli otto duplici omicidi, siamo costretti, dice l'avvocato Biscotti, ad agire di conseguenza. Il Consiglio regionale della Toscana ha aperto la seduta odierna con un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Viareggio, l'incidente ferroviario avvenuto il 29 giugno del 2009, in cui morirono 32 persone. In sottofondo l'Aula ha ascoltato anche il fischio del treno. E a 13 anni di distanza, tutto il Paese ricorda con commozione la strage di Viareggio, che causò appunto la morte di 32 persone. A nome della Camera dei Deputati, desidero esprimere ai familiari delle vittime la più profonda vicinanza. Queste le parole del Presidente della Camera, Roberto Fico, proprio sulla giornata odierna, anniversario della strage di Viareggio. Del Ghingaro di Mettiti è quanto recita un grande striscione della Viareggio Ultras contro il Sindaco affisso sulla passerella del canale Burlamacca, proprio in concomitanza con la giornata odierna e il tredicesimo anniversario della strage. Siamo alla situazione sui nuovi casi di positività al coronavirus in Toscana. Nelle ultime 24 ore sono 4.543 su oltre 17.000 test, di cui 2.147 tamponi molecolari. Il tasso dei nuovi positivi, che ha un'età media di circa 48 anni, è al 26,71%. Rispetto a ieri sono in calo i contagi a fronte di un numero di tamponi inferiore, con un tasso di positività sceso di quasi due punti percentuali. Iniziata la mietitura di orzo, avena, farro e grano in Toscana, dove la raccolta è inferiore alle aspettative ed è attesa una riduzione tra il 20 e il 30% delle rese per ettaro a causa della siccità e del caldo record delle ultime settimane. A dirlo la Col di Retti Toscana dopo un primo monitoraggio. Ammontano a circa 250 milioni di euro i pagamenti 2021 in agricoltura che la Regione Toscana ha erogato tramite Artea su domanda unica. Per la campagna 2022, invece, sono ad oggi oltre 51 mila le domande presentate per una richiesta complessiva stimata di 253 milioni di euro. A fare il bilancio è stata la vicepresidente della Toscana e assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, ad un giorno dalla chiusura dei pagamenti che saranno completati il 30 di giugno. Una spesa media tra i 150 e i 170 euro in Toscana con i consumatori che, dopo due anni di emergenza, potranno muoversi liberamente nei negozi. Un elemento che porterà molte più persone a scegliere di acquistare in luoghi fisici anziché online. È la stima di Confesercenti Toscana in vista dell'avvio dei saldi previsto per il prossimo 2 di luglio. Sul rigassificatore di Piombino, finora sono venute fuori questioni tecniche legate alle norme nazionali, ma io sono il commissario, le norme le leggo e le interpreto. Come commissario mi sento garante dei cittadini, quindi finché io non ho assicurato le condizioni di sicurezza di impatto ambientale e di rispetto della salute della popolazione nella città e nel porto di Piombino, io non firmo niente. Così il Presidente della Toscana, Eugenio Gianni, a margine della seduta del Consiglio regionale sul progetto per il rigassificatore nel porto di Piombino. Per far fronte alle criticità derivanti dagli incendi boschivi, Anci Toscana e Regione promuovono l'app Cittadino Informato, che tra i vari servizi comunica il rischio di sviluppo e di propagazione di roghi sulla base di un apposito bollettino regionale. Prima di concludere, siamo come di consueto a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi basse sul Valdano inferiore al mattino, in rapido dissolvimento. I venti saranno deboli occidentali, i mari poco mossi, localmente mossi al mattino. Temperature minime in calo, massime in aumento, con valori massimi fino a 34 gradi. Ed è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, a domani, arrivederci.